Allora, iniziamo la seconda prova, 24 marzo 2011, 2-5, quasi l'orario di ieri, non spaventatevi perché c'è scritto 0,20 microsievertora, ma in centro il fondo è più alto che la periferia dove ieri ho fatto la prova. Togliamo la campana del filtro, prendiamo il contatore, lo appoggiamo sopra, adesso tiro fuori il filtro perché c'è più polvere sotto, come mi hanno detto giustamente, vediamo che non è aumentato il valore, no, addirittura scende perché la plastica probabilmente, molto probabilmente ripara dalle radiazioni dell'ambiente, quelli cosmi che diciamo, quindi il valore scende. Anche se intorno al centro, siamo in centro, intorno al centro i valori vanno a 0,22 microsievert, ma è un problema di fondo napottorale più alto in centro, come dicevo prima.